Buonasera a tutti, io sono Stefano Bargiacchi, Profsteo, oggi è venerdì 12 aprile 2012 e come sempre vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale. Settimana che è stata, lo vediamo sui nostri grafici giornalieri, assolutamente interessante. Che cosa è successo? Il giorno 5 aprile scorso, lo sappiamo perché lo abbiamo seguito anche insieme sulla pagina Facebook che come sempre ci permette di rimanere in contatto anche nel corso delle giornate e tempo permettendo in real time rispetto a quello che accade sui mercati. Ecco, dicevo, è avvenuto in sostanza un test dei minimi in area 2005, qui sull'euro stocks precedenti, che sono poi i minimi del 2013 che insieme ai massimi del 2013 abbiamo più volte segnalato come i livelli da tenere presenti in questa situazione di sostanziale profonda incertezza che ancora domina purtroppo sui mercati. Ecco, c'è stato, lo ripeto, un test di questi minimi che ha fatto partire uno swing verso l'alto, culminato prima nella giornata di mercoledì con il forte rialzo e poi nella giornata di giovedì 11 con una sostanziale accettazione che aveva portato anche ad un piccolo proseguimento del rialzo ad un certo punto, poi negato dal Bund che non aveva rotto i minimi del giorno precedente al ribasso, come, lo ripeto, abbiamo anche in questo caso commentato su Facebook insieme e vissuto insieme, riportando i mercati un pochino verso il basso. La discesa ha poi visto la giornata di venerdì un proseguimento dei ribassi che è proseguito sostanzialmente per tutto il giorno, vediamo i grafici intraday, quando poi intorno alle 17, quindi poco prima della chiusura dei mercati cash europei c'è stato un recupero che, questi sono i mercati americani in intraday, in qualche modo ha riportato, rivediamo i grafici giornalieri, i mercati un pochino verso l'alto. Quello che è accaduto quindi è in sostanza che, se è vero da un lato che dobbiamo assolutamente tenere presenti i limiti del 2013 come limiti oggettivi entro i quali, e fin tanto che si rimarrà entro gli stessi limiti del 2013, la situazione si può definire assolutamente incerta. Guardate qui quanti movimenti, anche repentini, anche irratici, sono avvenuti all'interno della stessa. È anche vero che precedentemente avevamo segnalato questi massimi, vi ricordate i massimi del 25 febbraio, come livello chiave che era stato poi rotto al rialzo, ma la rottura si era rivelata falsa con un rientro del mercato all'interno di questo stesso livello. Ebbene, sembra che questo livello ancora in qualche modo pesi sui mercati sia ancora importante, perché vedete che il mercato nella giornata di giovedì 11 ha sostanzialmente ritestato quella zona, quell'area, da lì è partito un ritracciamento, proseguito poi nella giornata di venerdì 11, appunto fino quasi alla chiusura dei mercati cash europei, per poi vedere un piccolo recupero che è perdurato fino alla chiusura dei mercati USA, quindi sostanzialmente che si è sviluppato nel pomeriggio americano. Allora, andiamo a vedere sul DAX, i livelli sono sostanzialmente analoghi, ecco qui il massimo che avevamo segnalato sull'Eurostox, ecco che anche qui dopo il test dei minimi di febbraio e più in generale dell'anno, si è ripartiti a rialzo con un swing verso l'alto, che però si è sostanzialmente anche lui fermato in questa zona. È partito uno swing verso il basso che proprio sul finire della giornata del venerdì, lo ripeto, nel pomeriggio americano, dopo la chiusura dei mercati cash azionari europei, ha visto un certo recupero. Allora il tema da seguire nelle prossime sedute sarà proprio questo, tenendo presente che, se è vero che i limiti del 2013 devono restare riferimento assoluto, è anche vero che questo livello in qualche modo ancora grava, ancora fa sentire il suo peso sul mercato. Quindi, se dovesse proseguire la positività, dovremmo vedere un ritesta in tempi brevi di questa stessa zona ed eventualmente, se di vera positività si tratta, una rottura, un proseguimento verso l'alto, proprio innescata dal recupero partito sul finire della giornata di venerdì. Quindi, e se si rompessero questi massimi, i massimi corrispondenti, sicuramente ai massimi giovedì, ma anche a questo livello importantissimo, dovremmo immediatamente tornare sui massimi del 2013, perché la conferma della vera positività verrebbe solo al di sopra, lo ripeto ancora, dei massimi del 2013. Se invece dovesse proseguire lo swing al ribasso, ancora l'area per quanto riguarda l'Eurostox del 2005 diventerebbe quella centrale, quella da seguire, quella sulla quale concentrarsi per vedere se e come si comporterà il mercato qualora dovesse arrivare qui in basso. Sul DAX più o meno stessa cosa, quindi ripeto, se proseguirà il recupero innescato nella serata europea, nel pomeriggio americano di venerdì 11, dovremmo tornare su questi livelli, romperli se di vera positività si tratta, al rialzo, e raggiungere poi i massimi del 2013. Anche qui, solo al di sopra di quelli c'è una rottura confermata dei massimi del 2013, ci permetterebbe di parlare ancora di positività. Ma ripeto, attenzione e cautela, perché la situazione crisi è tutt'altro, lo sappiamo purtroppo, è tutt'altro che risolta. Comunque i livelli, almeno dal punto di vista grafico, sono sufficientemente chiari per permetterci di giudicare quello che avviene. Se dovesse invece proseguire quindi lo swing verso il basso, è chiaro che quest'area di minimo, corrispondente all'incirca con i minimi di febbraio, dovrebbe sostanzialmente di nuovo essere l'obiettivo naturale. Cosa significa? Vedere se e come il mercato arriverà in questa zona e come si comporterà appunto al raggiungimento della stessa. La situazione qui è, sui mercati azionali lo vediamo, molto caotica. Vediamo che in un'ottica un pochino più ampia è assolutamente corretto prendere, lo ripeto ancora perché è davvero importante i limiti dell'anno 2013 come livello chiave sostanzialmente e all'interno del quale c'è una sostanziale fotografia dell'incertezza che vige e grava tantissimo e purtroppo sui mercati europei. Il nostro FIB continua a fare un pochino storia a sé, la situazione è sicuramente più grave, vedete i massimi del 2013 gennaio sono molto lontani, il FIB viaggia ancora molto indietro rispetto a DAX ed Eurostox e l'altro elemento è che se è vero che qui DAX e qui Eurostox nel 2013 c'è stata molta incertezza che si riflette in questa erraticità, in questo che abbiamo chiamato macro e sottoambiente swing sul multi-day. Ecco, vediamo che sul Bund la situazione è tutt'altro che incerta, perché sostanzialmente per ora c'è stato un trend ben definito a rialzo che si è innescato proprio in questo 2013, quindi dobbiamo come sempre tenere un occhio anche sul Bund per vedere se e come va a confermare quello che accade sui mercati azionari, chiaramente non in primo piano ma sicuramente a conferma di quello che vediamo su DAX ed Eurostox principalmente. I mercati americani continuano a fare un pochino storia a sé e la positività della settimana li ha portati nel caso del Nasdaq a raggiungere quasi l'area del S&P 500 o del 1600, quindi è di nuovo dei massimi storici. Il Nasdaq si è ben comportato, lo vediamo anche lui, con dei buoni recuperi, quindi per ora rimane un po' come diciamo da tempo una storia a sé stante per quanto riguarda appunto i mercati americani.